ciao cari siamo qui nuovamente su un video per youtube sempre la serie da zero sempre pc estremamente indietro perché stiamo solo ancora al 20 però però c'è da dire una cosa che cazzeggiando e ridendo lasciando il pg in autocarcia anche quando non faccio le live per questa cosa perché un'ora al giorno ce lo butto perché almeno facciamo un minimo di progresso se non sto fermo a mille anni fa ha fatto il 30 al pg ma ve lo faccio vedere perché non ancora non l'ho alloggato alloggato i due pg fantastici uno al 27 uno al 30 ma io direi di mostrare un attimo fare uno sfoggio di abilità e mostrare il pc che brilluccica finalmente e anche se la pietra si la pietra non è entrata io provo a sfregio questo per il più 9 dai qualcuno forse per proiezioni se lo può prendere questo no no ditemi che libri vi servono e magari ve li tengo vi serve attacco lampo c'ho un attacco lampo trovendo a 100k se vuoi 100k non di più ok e questo ce lo siamo levato vieni vieni anna vieni quando vuoi ruggito ce no due deruggito e c'è un aiuto io intanto continuo un po questo per il più 7 laura tra tra vendo c'è c'è i soldi su quel pg cazzo un più 9 che è andato via così facendo finta di niente l'are simbillare sempre a 100 e le aure vabbè tanto piede questo accento e poi ti passo l'altro metti nella gilda e spero fai pg al 40 purtroppo non è questa la gilda a quanto stanno aura controllo io controllate voi ci avete il vetro per controllare sa 14kk ora facciamo quanto la vuoi venduta ora ma proprio alla monaco ma questi non si vendano un cazzo non si bottegano niente peccato sarebbe stato utile palottino primo negozietto siamo un po di soldi bevo le aure si vendono su cose proprio ecco i due libretti che vanno via e i soldi che pioccano è già venduti eh sì erano due libri aura vediamo se questa va più 6 attenzione per il più 7 attenzione più 7 e i duo questo sei due anna no da sura no ok e quindi ruggito ruggito sta tipo a quanto sempre 200 che è 300 che e aiuto sta uno e mezzo due quanto stava e fammi tu il prezzo vai vai tranquillo tranquilla vabbè questo per il più 8 no è fallita lo chiamo quest'altra fallita questa per il più 6 ho perso i miei 500 hp per il più 8 successo posso fare un altro più 9 sarei quasi tentato di iniziare il primo vg vabbè faccio solo il nome faccio solo il nome crea solo il lo creo e basta questo è il mio primo pg di idra quello fatto meglio quello che è arrivato a livelli più alti ruggito stanno a 200k e aiuto e famo 22 k k 5 tutto tra colli no non è vero troppo sì vabbè ci posta come prezzo totale che dici al nome questo è perché viene dal primissimo pg ma io avevo pensato che fa così no che dici del nome va bene questo nome no l'hanno preso già male e vaffanculo dove dai cosi fermi tutti allora aiuto ruggito e ruggito fatto 30k k big profit a buttamo a up a ste cose e poi me ne vado forse uno subita come al solito bile d'orso buono sempre così magari poi un po' altro libro comunque l'abbiamo droppato che abbiamo droppato mo che cazzo no volontà di vivere può essere credo proprio che sì libro di nuovo aspettiamo lo sgamo qual è volontà no veleno insidioso ok però comunque non so pochi 30k k non avendo fatto un cazzo stando solo al 20 avendo due pezzi già più 9 anzi in realtà 3 che c'ho pure un altro scudo libro vediamo quel libro è salto del luco una merda a livelli bassi è molto complicato fare i soldi non mi pare però vabbè dipende da che soldi intendi beh in realtà no perché se ti metti a up alle collane e le scarpe le fai più 9 sono un a pezzo ma la serie da zero in realtà è allora un po' incentrata sul fatto che pure giocando sta serie che sto fa è incentrata sul fatto che pure se c'hai poco tempo riesci comunque a progredire il gioco sai come muoverti e se ti diverti a fa qualcosa perché sinceramente il continuo parlare di vg al livello 50 per fa la giornaliera ma ha fatto tipo esplode all'interno implode e quindi le conseguenze non posso fa altro che fa vedere comunque se giochi poi fa comunque i soldi e poi divertite comunque ci stanno tante cose più divertente giuro io ritornerò a fa la torre dei demoni e divertirmi a fa la torre dei demoni pure perché non reggerò un cazzo già lo so facendo primo pc pc soprattutto il primo vg world corpo a maggior ragione un altro bilet orso nois inizia accumulare le pietre magari è un po to match però sarebbe da paura quel hai fatto acquisti strani nell'ultimo periodo o comunque non è soffato il bilet orso allora qua questo è il libro estati totalmente useless ma va bene uguale aura della spada altri soldi easy money no ma io faccio un corpo però me ne vengono tutte le prime aure in drop ok e poi come li fai soldi dove allunga un po sto braccio e pia sto bilet orso vaga devo punti rex vediamo quel libro bam un'altra aura no respiro del luco e vabbè questa curazza ferro andava raccolta no non andava raccolta come è cascato quasi mai di una in testa bello sarebbe stato più divertente se me prendeva però i gialli so try hard ma non è vero cambia i try hard cambiano ogni volta che cambia la percentuale ciammaria cambia ogni 45 mesi e ogni 45 mesi la gente si è sposta quasi iniziare a far scrivere punto scambio di evento spero che partecipiate in tanti il codice vi fa vincere questo non quello che è successo poco fa parte il meme e la cosa che ho combinato il codice vi da sette giorni di negozio shop offline sette giorni di doppio drop sette giorni di canna tre giorni di nazar due scatole cuccioli che stanno un one luna e cinque attacchi cinque difese e cinque vite dio drago sottotitoli sottotitoli